Bentornati bentornati amanti del betting bentornati ancora una volta alla lettura che andremo a fare delle gare del campionato cambieremo un po' il format da questo weekend sul suggerimento di qualche utente con il quale ci siamo confrontati abbiamo deciso di accorpare fare un solo podcast con qualche lettura e qualche pronostico vedremo come va andrà questa nuova tipologia e poi stileremo una bolletta con una quota senza fare la lettura partita per partita o quantomeno facendola in maniera abbastanza veloce ma poi andando a fare una multipla che racchiuda sia la serie A e sia la serie B Serie A che partiamo dal turno che si giocherà si è giocato all'anticipo nel quale il sassuolo ha battuto di misura il benevento e poi ci sarà il resto della giornata il resto della giornata che comincerà l'undicesima con tre partite tre partite di sicuro interesse al sabato Crotone Spezia Torino Udinese e Lazio Verona di queste partite Crotone Spezia due neopromosse il Crotone ha assoluto bisogno di punti lo Spezia sta facendo bene difficile da pronosticare così come difficile molto difficile da pronosticare Lazio Verona partite entrambe alla grande la Lazio qualificata nell'ultima giornata della Champions difficile da fare noi ci focalizziamo in questo sabato su Torino Udinese Torino molto messo male in classifica ha avuto la contestazione dei tifosi durante questa settimana è reduce da un derby perso in rimonta sappiamo quanto ci tengono in granata al derby contro la Juventus era passata in vantaggio poi ha perso per 2 a 1 un'ennesima batosta però penso che in questa occasione contro Udinese che da un lato è vero che sta fatto qualche buon risultato specialmente in trasferta ma è altresì vero che ha ancora dovrebbe avere qualche assenza pesante quindi in questo caso noi abbiamo scelto l'1x più multigoal 2-5 all'ottima quota di 2-0-5 che ci sembra una quota veramente interessante andiamo a vedere il resto del programma alla domenica ci sono due partite che andremo a scegliere sono secoli della multipla Cagliari Inter ci stuzzicava più caldo per la quota l'1x bisognerà capire se l'Inter accuserà l'uscita dalla Champions League oppure addirittura proverà un'immediata reazione difficile da decifrare Cagliari che dovrebbe recuperare in attacco Simeone ma non prendiamo in considerazione questa partita come non prendiamo in considerazione Atalanta Fiorentina stesso discorso similare per l'Atalanta che ha postato il turno c'è qualche piccola discussione la Fiorentina anche lei deve assolutamente far punti ne ha trovato uno in maniera un pochino fortunosa al 97esimo contro il Genoa difficile come difficile Bologna Roma una sfida dove Bologna in casa anche senza il pubblico è difficile da decifrare la Roma ha giocato in Champions e ha fatto riposare molti giocatori ma noi ci focalizziamo su un'altra partita Napoli-Sandoria il Napoli è vero che si è fatto recuperare all'ultimo contro la Reazio Sedad ma è anche vero che comunque si è passato il turno che era quello che volevano e l'ottima quota di 1,40 stuzzicano un poco per l'1 Napoli-Sandoria una Sandoria che ultimamente non sta facendo benissimo Genoa-Juventus la saltiamo perché troppo basse le quote per la vittoria dei bianconeri che potrebbero comunque sia soffrire contro un Genoa che cerca più di salvezza prendiamo invece in considerazione l'ultima gara Milan-Parma alla quota di 1,73 abbiamo scelto il goal perché il Parma a San Siro ha già fatto lo scherzetto all'Inter negli ultimi anni sta facendo bene Gervinio è in buona condizione il Milan qualcosina sta concedendo è vero che i rossonegri sono favoriti ma in questo caso andiamoci in goal a 1,73 passiamo alla Serie B Serie B che è cominciata già con due anticipi con il Chievo che ha battuto la Regina 3-0 e il Monza che è andato a vincere per 2-0 in casa del Venezia il resto della giornata Brescia-Salernitana, Cosenza-Reggiana, Cremonese-Ascoli, Entella-Empoli Lecce-Frosinone, Pisa-Pordenone, Pescara-Vicenza, Cittadella-Spal partiamo da Pisa-Pordenone il Pisa che ha vinto il recupero della settima giornata che ha giocato martedì in rimonta in pochi minuti contro l'Ascoli la squadra di D'Angelo ha lavato un grosso bucato come si suol dire una vittoria fondamentale per i Nerazzurri vedremo se si saranno sbloccati noi sì abbiamo fiducia nonostante Pordenone sia una squadra temibile e andiamo con l'1x più multigol 2-5 a 1,93 Entella-Empoli quindi diverse le forze in campo un po' troppo rischioso però comunque sia giocare il 2 quindi andiamo con l'x2 che è comunque un'ottima quota 1,29 anche l'ultima partita che analizziamo è un x2 Cittadella-Spal 1,45 Cittadella è l'ennesimo l'abbiamo detto più volte l'ennesimo anno in cui si trova a recitare il ruolo di sorpresa ma la Spal vista contro il Pisa nell'ultimo turno ha veramente impressionato ma vista nelle ultime partite la squadra di Marino sta veramente facendo bene e in questo momento è riduce da 5 vittorie di file a soli 2 punti dalla capolista salemitana andiamo dunque a ricapitolare quella che sarà la multipla che giocheremo Torino-Udinese 1x più multigol 2-5 a 2,05 Napoli-Sandori a 1 a 1,40 Milan-Parma gol a 1,73 Pisa-Pordenone 1x più multigol 2-5 a 1,93 Intella-Impoli x2 a 1,29 Cittadella-Spal x2 a 1,45 la quota per chi volesse giocare questa multipla è di 17,9 direi niente male quasi 18 per questa multipla a me non resta che salutarvi vi ricordo come al solito i nostri social partendo dal canale Telegram Amanti del Betting nel quale pubblicheremo anche le giocate live di questo weekend qualche altra multipla oltre a questa c'è la pagina Facebook sempre Amanti del Betting così come c'è la pagina Instagram contattateci come avete fatto attraverso messaggi privati anche di Instagram le risposte arriveranno subito ci sono tanti tanti messaggi le risposte arriveranno quanto prima è proprio da uno più di uno dei messaggi che sono arrivati ripeto abbiamo cambiato format da questo weekend non faremo più due podcast separati per l'A e per l'A facendo la lettura di tutte le partite ma andremo potremo sì fare un pochino una lettura delle gare però ne sceglieremo qualcuna per costruire una multipla così come abbiamo fatto questa volta me non resta che darvi l'appuntamento al prossimo podcast ciao a tutti